attaccamento ci consentono di sviluppare distacco dal risultato e il concetto diciamo così se vogliamo di potere del distacco è naturalmente presente in tutte le filosofie spirituali in tutte le filosofie in tutte le tradizioni esoteriche dal diciamo dal buddismo all'induismo al taoismo anche alla porcheria new age anche o salutiamo anche beticottici anna anche la porcheria new age nota come legge di attrazione che per carità va anche bene la legge di attrazione salutiamo anche roxy va anche bene la legge di attrazione e vediamo un attimino a proposito di hello che mi dice beticottici non so se riuscirò però potrebbe esserci un sito di intelligenza artificiale che fa piccoli video adesso potrà scaricare ma non so se funziona cioè se lo traduce nel formato giusto comunque che converte la mia voce in inglese però sono video che prendo da youtube i miei tradotti da un minuto massimo un minuto ma voglio fare una prova però non so se il formato è quello giusto vedremo comunque questo non c'entra un kaiser comunque allora cerchiamo di capire cerchiamo di capire però alcune cose molto importanti alcune alcune cose veramente fondamentali che ci devono far capire ci devono far capire che noi possiamo sviluppare il distacco del risultato il concetto di potere del distacco è diciamo ripeto è presente in tutte le tradizioni dal buddismo all'induismo all'autoismo e l'idea chiave diciamo così dietro il potere del distacco è che agire senza attaccamento a tutte le varie situazioni agli esiti alle cose che ci possono capitare nella vita ci dà sicuramente una maggiore chiarezza mentale ci dà un maggiore equilibrio emotivo ci dà maggior saggezza nelle decisioni quindi anche senza andare troppo nell'esoterico se manteniamo il distacco del risultato abbiamo chiarezza mentale equilibrio emotivo e saggezza nelle decisioni d'altra parte questo questo d'altra parte questo si potrà vedere si potrà vedere se diciamo si potrà vedere soltanto è però la scaricato adesso tornando al discorso brevemente risponde green apple la scaricata in un formato strano per questo non riesco a caricarlo su youtube la vedo dura però vediamo dai allora stavo dicendo quindi questo è un punto fondamentale no quindi senza andare nell'esoterico infatti voi penso che vi sia capitato no quando siete coinvolti emotivamente in qualcosa prendete sempre la scelta sbagliata e magari chiedete a un vostro amico e si verifica anche una situazione paradossale no che il vostro amico che ha meno conoscenze di voi e non potrà mai avere le vostre conoscenze vi darà dei consigli che possono essere migliori più efficaci dei vostri e invece voi che avreste le maggiori conoscenze no perché un qualcosa che riguarda voi essendo coinvolti emotivamente essendo attaccati al risultato sbagliate prendete lucciole per lanterne fate grandi cazzate potreste ad esempio appiccicarvi a un orso marsicano che non vi vuole potreste appiccicarvi che ne so all'orso che invece si fa i cazzi suoi nel frattempo saluto faga e saluto green ah no green noi prendiamo la scelta sbagliata beh sì però è l'attaccamento è l'attaccamento che ci fa fare le scelte sbagliate quindi se noi riuscissimo a diciamo a mantenere il distacco del risultato se noi potessimo agire senza lasciarci influenzare dalle emozioni e dagli attaccamenti avremo una maggior chiarezza mentale un maggior equilibrio emotivo e una maggiore efficacia nelle decisioni e questo non riguarda l'esoterismo riguarda semplicemente il mindset l'attitudine mensale mentale questa diciamo filosofia insomma questo modo di valutare le cose può essere applicata a vari aspetti della vita ad esempio nelle relazioni personali ma anche nel lavoro nelle questioni quotidiane no ad esempio nel contesto delle relazioni sentimentali il distacco del risultato ci può fare essere presenti vivere le relazioni essere aperte alle esperienze ma senza attaccarci in modo come dire eccessivo talvolta addirittura in modo compulsivo senza attaccamenti senza accanimenti a un particolare risultato o a una certa aspettativa che ci siamo dati no ma questo può valere anche nel lavoro nel lavoro ci possiamo impegnare pienamente in quello che stiamo facendo ma senza lasciare che il fallimento o il successo influenzino la nostra identità o la nostra felicità questo è il concetto chiave non dobbiamo farci fregare dal fallimento e dal successo questo è un punto molto importante questo è un punto molto importante perché perché anche il successo ti può fregare quante persone anzi la maggior parte dei poveri diciamo così dei poveri che si sono arricchiti vincendo alla lotteria o al lotto super analotti insomma vincendo le lotterie sono tornati più poveri di prima hanno perso tutto nel 90 per cento dei casi perché la loro mente si è annebbiata si è annebbiata non avere un ricco o una persona che fa i soldi diciamo attraverso un business gradualmente eccetera eccetera sa gestire la cosa non qualcosa che sa gestire ma uno che ha sempre fatto come dire il parcheggiatore abusivo che improvvisamente vince diciamo così milioni su milioni che ne so magari al super analotto qualche lotteria si troverà la mente annebbiata da un'emozione molto forte che gli farà prendere decisioni folli decisioni sbagliate e perderà molto rapidamente tutto quanto ha guadagnato a meno che non riesca a sviluppare proprio il distacco del risultato e non riesca a controllare le sue emozioni e questo è un altro concetto che secondo me può essere anche diciamo interpretabile no con il detto se voi vi ricordate di Gesù che ha detto tante cose giuste ha detto anche tante cazzate secondo me non è che voglio essere blasfemo però anche Gesù quando diceva o con me o contro di me secondo me diceva puttanate ma comunque ognuno può pensarla come vuole però quando diceva a chi ha sarà dato e a chi non ha sarà tolto beh credo che probabilmente diciamo intendesse anche questo no che se tu non hai è perché hai degli attaccamenti e quindi non riesci a raggiungere dei risultati fondamentalmente quindi cerchiamo di capire un po' come avviene il tutto no insomma quindi quindi dobbiamo cercare di applicare il distacco del risultato in tutte le esperienze nella vita allora dobbiamo subito diciamo precisare una cosa che il concetto di distacco del risultato non significa diventare insensibili o menefreghisti diciamo si tratta semplicemente di sviluppare una sorta di equilibrio interiore che ci consente di affrontare le situazioni le sfide le esperienze con calma con saggezza senza avere l'ottundimento mentale dalle emozioni no perché le emozioni ma anche ottundimento mentale ma anche ottundimento mentale dato dalla logica fondamentalmente perché le emozioni ti fanno agire compulsivamente no quando la parte emotiva prende sopravvento sulla parte logica tendiamo ad agire in modo compulsivo e quando la logica tende a prendere lo sopravvento eccessivamente sulle emozioni agiamo in modo talebano agiamo in modo coercitivo quindi è molto importante saper gestire entrambe queste situazioni senza essere schiavizzati quindi il concetto di distacco del risultato è molto importante l'idea che agire diciamo fare azioni senza attaccamento è più efficace è veramente un'idea importante che dovremmo veramente tutti noi imparare a sviluppare perché è un po' la base per far funzionare la cosiddetta legge d'attrazione che in realtà fa parte della diciamo delle cose new age recenti però la legge d'attrazione è un concetto molto molto antico è sicuramente presente in tutte le tradizioni spirituali dove si parla di automiglioramento e quindi la legge d'attrazione richiede proprio il distacco del risultato per funzionare perché i presupposti diciamo di attrarre le cose che vogliamo sono intanto il pensiero positivo e la focalizzazione se uno attaccamenti difficilmente a un pensiero positivo perché se tu hai un attaccamento ce l'hai perché se io temo l'abbandono non ho un pensiero positivo ho paura di essere abbandonato l'abbandono in qualche modo mi condiziona per cui diciamo che non ho questa possibilità questa prerogativa di vivere al meglio diciamo la situazione quindi vado già a inficiare subito il primo presupposto del pensiero positivo presente nella legge d'attrazione nella focalizzazione ma poi un altro punto della legge d'attrazione è la visualizzazione creativa visualizzare con chiarezza ciò che vogliamo attirare è un aspetto chiave della legge d'attrazione si tratta di immaginare vivamente in modo visivo diciamo ma con tutti i sensi in modo da vivificare il nostro obiettivo come se fosse già raggiunto coinvolgendo tutti i sensi ovvio che se tu hai paura di non raggiungerlo inconsciamente produrrai dei pensieri delle immagini e delle vivificazioni opposte questo è un punto fondamentale la legge d'attrazione prevede affermazioni positive cioè dichiarazioni positive che riflettono ciò che vuoi attraere nella vita quindi ripetere affermazioni in modo regolare per rafforzare la tua mentalità positiva ma se tu hai paura di non raggiungere un obiettivo è facile che inconsciamente emergano dei pensieri negativi non ce la farò mai sono sfigato sono sfortunato salutiamo Pink grazie Pink sono sfortunato sono sfigato non riesco ad avere quello che voglio perché questi pensieri nascono inconsciamente non mi danno la possibilità di agire consapevolmente quindi noi dobbiamo imparare a gestire queste cose le affermazioni positive la visualizzazione creativa il pensiero positivo e poi anche credere credere e avere fiducia credere nella possibilità che noi possiamo raggiungere veramente ciò che desideriamo credere che i nostri desideri possano diventare realtà ma credere se io lo credo veramente non ho paura che non avvenga e se non avviene fa parte del destino fondamentalmente fa parte della gratitudine che è un altro punto basilare della legge d'attrazione essere grato per ciò che già attualmente ho nella mia vita è un modo di attirare più cose positive la gratitudine aumenta le nostre vibrazioni aumenta le nostre frequenze ci aiuta a mantenere uno stato mentale aperto ci aiuta diciamo a raggiungere l'opportunità è evidente che se invece voi non avete distacco del risultato avete attaccamento perché dite voglio l'orso voglio l'orso marsicano a tutti i costi voglio l'orso perché l'orso è la mia anima gemella magari sto cazzo l'orso non è la tua anima gemella e l'orso non è niente per te ma tu ti accanisci ti accanisci hai paura di non averlo entri in stato di non saper gestire le emozioni e ti vengono fuori un sacco di emozioni negative ti vengono fuori un sacco di pensieri negativi ti vengono fuori delle immagini negative in cui ti vedi anziché te con l'orso vedi te senza orso e quindi alla fine te lo prendi in quel posto fondamentalmente ma tu sei l'artefice della tua sfiga e non hai neanche gratitudine perché anziché essere grata che l'orso si toglie dai coglioni e non è presente tu non sarai grata all'universo per quello che hai inizierai a dire eh ma senza orso senza orso come faccio senza orso come faccio a vivere bene senza orso e quindi diciamo e quindi diciamo che che non riesci a gestire la cosa quindi dobbiamo fare poi delle azioni consapevoli che è un altro punto fondamentale la legge dell'attrazione non è solo pensare positivamente ma anche agire in modo consapevole verso i tuoi obiettivi fare azioni concrete coerenti che si allineino con i tuoi desideri l'azione è un elemento essenziale per ottenere ciò che vuoi ma devi farlo con distacco dal risultato perché se no sarà un'azione fallace sarà un'azione che ti porterà anziché raggiungere i tuoi obiettivi e ti porterà anche a crearti un sacco di paranoie mentali ti creerai un sacco di paranoie mentali perché inizierai a dire ecco ma adesso io lo attraggo con il pendolino lo attraggo con l'attrazione psichica che diciamo come dire io non è che voglio negare il pendolino l'attrazione psichica è tutto ma spesso è una come dire se viene fatto con un certo livello di consapevolezza ha senso ma nella maggior parte dei casi è un surrogato perché noi ci rendiamo conto di non sapere agire di essere sfigati nell'azione quindi il voler usare il pendolino le attrazioni psichiche queste cose qua sono semplicemente il conclamare il fatto che non siamo in grado di agire che siamo deficitari che siamo fallaci che siamo sfigati e quindi ci dobbiamo come dire rivolgere a una consapevolezza superiore sperando che l'universo si metta diciamo dalla nostra parte invece l'universo primo di te se ne sbatte i coglioni tieni presente questo punto fondamentale l'universo di te se ne sbatte i coglioni non gliene frega un cazzo all'universo di te però tu puoi però tu puoi agire negativamente agire negativamente e far sì che le forze diciamo generali si vadino a lavorare contro di te quindi la cosa veramente importante è l'azione è l'azione noi viviamo nel mondo delle forme certo uno può usare anche l'attrazione psichica il pensiero può usare tutto ma come dire la cosa fondamentale che dobbiamo imparare a usare è l'azione fisica attraverso la comunicazione perché altrimenti è un po' come dire non so che esempio posso fare devo devo scavare una montagna devo scavare una montagna per scavare una montagna devo scavare una buca nel terreno per dire e anziché prendere pala e picco diciamo per scavare salutiamo Andrea Giovani per scavare la buca nel terreno mi metto lì a pensare diciamo di spostare con la forza della mente un granello di sabbia ma mettiamo che anche la mia forza della mente mi faccia spostare il granello di sabbia che riesco a allenarmi tantissimo e sposto il granello di sabbia oppure che ne so allora mi sforzo con la mente di spostare questa penna da questo punto a questo punto ma non lo so magari uno impiega cento milioni tutta la vita di concentrazione per far venire un piccolo movimento quando io semplicemente con le mani la prendo e la sposto di qua e voglio fare una buca non è che devo concentrarmi con la mente per fare una buca prendo pale picco come facevano facevano gli antichi e scavo in un'ora magari mezz'ora scavo quella buca che quell'altro che si mette lì a concentrarsi mentalmente con la tele cinesi magari dopo 50 anni di prove riesce a spostare un granello di sabbia che se ne fa una pippa del granello di sabbia spostato quindi questo per dire che viviamo nel mondo delle forme quindi per prima cosa dobbiamo usare le azioni pratiche che ovviamente vuol dire anche comunicazione perché la comunicazione perché come possiamo dire perché la comunicazione fa parte delle azioni quando io comunico agisco agisco in modo pratico cioè è ovvio che dentro di me i pensieri sono fondamentali eppure molte persone si rivolgono diciamo queste pratiche di tele psichismo telecinesi telecazzo e mazzo perché si reputano sfigati perché si rendono conto che con le azioni fisiche non sono in grado si pensano di essere incapaci cioè si sono fatte delle profezie autoveranti è come quello che spera di campare giocando al super analotto è la stessa cosa cioè ha la stessa probabilità se uno anziché andare a lavorare o fare qualunque attività che porti reddito dice no no ma io ho che ne so 100 euro da parte e me ne gioco 2 1 euro alla volta perché voglio vivere sperando di farcela col super analotto praticamente certo c'è uno su chissà quanti milioni ce la farà a farcela col super analotto ma la maggior parte delle persone morirà di fame che se non ci fosse la caritas morirebbe veramente di fame quindi bisogna per prima cosa agire bisogna per prima cosa agire è inutile che tu speri di con lo psichismo far accadere le cose perché con lo psichismo non accade un bel cazzo perché cioè mi spiace sfatare queste cose ma io posso anche concentrarmi se no saremmo come vanna marchi che ti vende la fortuna vanna marchi che ti vende i numeri dell'otto no è come se io avessi i numeri dell'otto vincenti me ne andrei a giocare io non è che metto a regalarli a venderli a qualcun altro no se io avessi sei numeri vincenti ma anche se mi metto lì a pensare esci tre esci adesso devo uscire il tre il quattro cinque sei sette mettiamo facciamoli di fila mi posso pure concentrare tutta la vita lanciare tutti i segnali che l'universo non gliene ha fatto un cazzo cioè come dire non è che magari qualche piccola influenza non lo so però io credo che nessuno o per meglio dire che io sappia riesce diciamo a condizionare gli eventi attraverso le forze della mente no perché quelli che dicono di fare questo poi magari come dire non lo so ti vendono il corso sullo psichismo ma anche lì è il stesso discorso se io sapessi influenzare con la mente gli eventi futuri vado subito a influenzarmi il super enalotto faccio uscire un bel sei secco e mi vinco i miei che ne so 50 milioni e mi trasferisco domani mattina a Monte Carlo no quindi qual è il problema se attraverso la mente riesco a influenzare gli eventi in generale no senza fare delle azioni particolari beh io se è possibile chi dice queste cose vada faccia uscire un bel sei faccia uscire un bel sei secco e smetterà poi di vendere quelle cose no quindi dobbiamo renderci conto no che alcune cose hanno un senso altre cose hanno meno senso o comunque possiamo usare tutto per carità possiamo sicuramente usare tutto ma però non non dobbiamo credere agli asini che volano perché noi viviamo in un mondo diciamo viviamo in un mondo delle forme per cui siamo tutti soggetti a queste leggi cioè certo qualcuno che potrà astrarre queste leggi c'è anche ma noi siamo tutti soggetti comunque a queste leggi del mondo delle forme nelle quali ci troviamo per cui il vero potere certo c'è nel mindset ma c'è anche nell'azione senza attaccamento al risultato altrimenti non otteniamo niente quindi l'azione consapevole è fondamentale anche l'attenzione alle emozioni perché le emozioni hanno un ruolo importante nell'attraere ciò che desideriamo ma non nell'attraere per effetti magici perché se noi abbiamo come dire sappiamo gestire le nostre emozioni sappiamo gestire le emozioni degli altri possiamo per qualche modo influire gli eventi ma attraverso le azioni non attraverso un fluido magnetico strano che poi per carità ci può essere anche il fluido magnetico strano ma può servire per spostare come dire il granellino di sabbia mancante no non è che mi fa tutto lo scavo insomma non so se mi sono spiegato perché poi veramente ci sono delle persone che entrano in un delirio secondo me ovviamente dobbiamo anche circondarci di persone positive di persone che ci portano energia positiva un ambiente positivo può favorire l'attrazione di cose positive nella nostra vita se tu ti circondi di persone depresse è facile che ti deprimerai se ti circondi di persone negative è facile che sarai negativa anche te perché noi comunichiamo anche a livello energetico e poi dobbiamo anche essere aperti flessibili lasciare uno spazio a nuova opportunità anche che le cose possono andare in modo diverso da come noi l'abbiamo immaginato quindi dobbiamo imparare a praticare la consapevolezza l'attenzione consapevole il mindset che ci aiuta a rimanere centrati nel momento presente a cambiare il focus a concentrarci sul processo anziché sul risultato un altro punto fondamentale questo ci aiuterà anche a ridurre l'ansia diciamo accettare l'incertezza la vita è piena di incertezze ci sono persone che escono col motorino per dire vanno a fare un incidente si sfasciano il bacino per fare un esempio questo non è che sia una roba dobbiamo accettare l'incertezza dobbiamo visualizzare scenari diversi anziché focalizzarsi su un unico risultato immaginiamo scenari diversi se l'orso marsicano non sarà disponibile se l'orso marsicano non sarà disponibile mi troverò che ne so anziché l'orso mi troverò il procione basta che non sia il procione quindi si può passare dall'orso al procione fare attenzione che dal procione al procione il passo è breve e potrebbe essere potrebbe essere negativo però anziché anziché l'orso posso passare al procione posso passare che ne so alla volpe posso passare diciamo posso passare che ne so a a qualche altra cosa fondamentalmente e quindi non dobbiamo avere un unico solo obiettivo nella nostra vita dobbiamo visualizzare scenari diversi questo ci aiuterà a prepararci mentalmente a diverse possibilità a ridurre il senso di attaccamento a un risultato specifico dobbiamo praticare il distacco emotivo lavorare per separare le tue emozioni dal risultato cioè riconosci le tue emozioni ma non permettere loro di dominare la tua azione le tue azioni ricorda che tu sei più del risultato riconosci il tuo valore riconosci la tua identità fissa obiettivi realistici anche avere aspettative realistiche può portare un attaccamento insano ai risultati coltiva un atteggiamento di apprendimento ogni risultato anche negativo è un'opportunità per crescere quindi impara pratica le gratitudini come dicevo cerca di sviluppare equilibrio cerca di sviluppare consapevolezza emotiva cerca di dominare il tuo pensiero se ti rendi conto che stai pensando in modo negativo autodistruttivo cambia il tuo pensiero diventa padrone in casa tua riorienta diciamo così i tuoi pensieri riorienta le tue attenzioni focalizzati sulle soluzioni non sui problemi poi è ovvio che secondo me è importante praticare meditazione praticare meditare è fondamentale perché ci consente di familiarizzarci sulle cose ma anche oltre a meditare anche fare esercizio fisico l'attività fisica comunque rilascia endorfine ed è fondamentale anche avere una buona dieta è fondamentale insomma stabilisci degli obiettivi alti delle aspettative basse e metti uno sforzo continuo ecco queste sono le cose che dobbiamo fare per sviluppare per sviluppare il distacco per sviluppare il distacco dal risultato fondamentalmente questo è un punto molto importante quindi provate provate per credere e non abbiate attaccamenti perché gli attaccamenti vi portano solo sfiga gli attaccamenti vi portano solo sfiga grazie grazie